Anche se parlare di Hollywood sultimavo suona decisamente eccessivo, vero è che nel corso degli anni a Trieste sono stati girati numerosi film. Nella maggior parte dei casi si è trattato di pellicole ambientate nella nostra città, da quelle con precedenti letterari più che illustri quali Senilità di Mauro Bolognini, che ha costruito un legame fortissimo fra Trieste e Claudia Cardinale, ad Ernesto di Salvatore Samperi, che ha balso un orso d'argento a Michele Placido. Particolare e curioso, entrambi i film sono disponibili in DVD da poco. Esiste un film poco noto, L'amore breve, protagonista Joan Collins, girato alla fine degli anni 60, che fra l'altro inserisce la crisi dei cantieri triestini in un contesto post-68. E poi una serie di pellicole dalla fortuna alterna, La ragazza di Trieste con Ben Gazzara e Ornella Muti, La terza avventura dei soliti ignoti, Giulia e Giulia di Peter del Monte con Kathleen Turner e Sting, fino alla sconosciuta e la migliore offerta, diretti da Giuseppe Tornatore con esiti notevoli. Per non dire della doppia avventura del ragazzo invisibile firmata Gabriele Salvatores. Per lo meno tre volte, Trieste è stata sette di grandi produzioni internazionali. Già negli anni 50, la 20th Century Fox girò quel corriere diplomatico, diretto da Henry Hathaway, sul quale molti fantasticano. Ma la spy story con Ron Power vide in città la seconda troupe e l'inseguimento a San Giusto venne girato con una controfigura e poi rimontato in studio, come l'occhio attento percepisce. Non si sa invece chi suggerì a Francis Ford Coppola di trasformare la pescheria in Ellis Island per la scena dell'arrivo di Vito Corleone Bambino a New York, ma pochi assistendo al padrino parte seconda si accorgono anche che alcune scene sono state girate nell'ex contastanteria dell'ospedale maggiore. Laddove in alcune brevissime scene dell'altrimenti inutile il paziente inglese, film premio Oscar nel 1996, si scorgono il molo audace che simula in post-produzione il porto del Cairo e il porto vecchio utilizzato per la scena del bombardamento di Tobruk.